Dopo 3 km quel salitone potrà anche fare la differenza, magari in favore di Juhug e della sua rimonta. Ecco la lista di partenza, Heidi Weng ha un'ammunizione ma le ammunizioni di solito si prendono nelle gare sprint, oggi potrebbe esserci un'altra ammunizione. Quel pettorale è per l'atleta in testa alla classifica delle Under 23, questa è un'introduzione di questa stagione. Prima delle italiane sta per arrivare Ilaria De Bertolis, 45, 1 minuto e 45 in ritardo. Arrivare nelle prime 30 non semplice ma potrebbe essere l'obiettivo. Qui Virginia De Martin, Ilaria De Bertolis è una trentina dalla Valle di Primiero, Francesca Baudin e Marina Piller qui. Poliziotta, parlavo di Ilaria De Bertolis, qui Greta Laurent. è tutto pronto. Chi vince quest'oggi porta a casa un dazio importante, o meglio punti importanti. Partita. 200 punti di Coppa del Mondo, più i 50 per il miglior tempo di giornata. Parte Bjorgen, si appresta a partire anche l'acqua nazionale Heidi Weng, poi Juhug a 32 da Bjorgen. In una delle gare che a mio modo di vedere è una delle gare più belle. L'inseguimento è la gara più affascinante, più bella, proprio quando esisteva proprio il Gundersen fatto in due giorni. Secondo me è tuttora la gara più bella, più spettacolare da fare. Anziché lo skirtlon, sottolino, ci piacerebbe vedere più gare di questo tipo qua. Sabato una gara in classico il giorno dopo in schietti con viceversa, ne gioverebbe allo spettacolo di Colossi di Fondo che vive un momento comunque non facilissimo anche in casa Italia. Ieri basti questo dato, si è gareggiato in Coppa Italia, pochissimi atlete a livello segno, una decina. Questo spiega tanto anche di come l'Italia stia facendo fatica a livello poi di Coppa del Mondo in ambito femminile. Guardando qualche trenino che si può fare, Aga, Osteberg e Charlotte Calla potrebbero essere tre che così se davanti dovessero un attimino partire non proprio convinte potrebbero tornare sotto sul duo davanti, Beng e Joao. Mentre Bjorgen non saprei come potrebbe interpretare la gara, secondo me tiene giù a manetta e via maniglia dall'inizio alla fine. Però bisogna vedere se ha il materiale che lo supporta. Vedete come si parte proprio in maniera così. Non è che partono a caso eh Silvano, hanno il loro tempo sul... perché sembra che arrivano lì e partino come... Quando vuoi. Partita anche Ilario De Bertolis, l'atleta italiana con il petroale 45, un ritardo di 1,45. Intanto Bjorgen prossimo al primo intertempo, aveva 20 secondi su Weng, vi ricordo, nella gara in classico di Cusamo in avvio di stagione. Ha vinto, anzi stravinto Joao con 42 secondi rifilati a Bjorgen, 44 a Calla. Oggi è un'altra storia, può essere un'altra storia, si parte e si lotta donna contro donna con la Bjorgen che è davanti, la Joao già vicinissima intanto a Heidi Weng. Eh sì, Joao già molto vicina ad Heidi Weng, questa coppia norvegese dovrebbe provare, guardate proprio la differenza di stile, di ritmo fortissima quest'anno, Teresino e Joao anche in tecnica classica, mentre staccano su Marie Bjorgen la leader di questo tour di Lilian Hammer. Buoni di sci, ha una bella tenuta, Marie Bjorgen, eh qualche passo viene perso però tutto sommato buona l'azione di Marie Bjorgen. Questo è il treno con Charlotte Calla che è lì con Oestberg, c'è anche Eggman in questo gruppo così come le altre atlete della Norvegia con l'otto passa a falla e qui vedete Joao già su Weng, Joao parte subito forte, guadagna forse qualcosina nei confronti di Bjorgen, così è poco ma sono tre secondi di fatto guadagnati 900 metri. Tattica di gara evidente per la bionda, leggera atleta norvegese, beh ci si prova, mezzo minuto rimane un distacco importante ma la Joao vista in classico quest'anno può tornare mio avviso su Bjorgen. Qualcosina guadagna Teresa Joao che su Marie Bjorgen, perde invece una decina di secondi Heidi Weng, naturalmente lei non poteva pensare di andarsene da sola, magari adesso con Teresa Joao potrebbe trovare quel piccolo treno norvegese di provare a tenere il podio finale. Kalla intanto si è portata al quarto posto, con lei ci sono le altre norvegesi e anche l'atletesca Denise Eggman, con l'undici c'è il passaggio per Martin Heckhagen, con dietro di lei anche il passaggio di Christa Latenemache, Parmakoski, con il quindici, bene Ljulia Cekaleva, Cekaleva aveva 1,13 adesso 1,25, là davanti vanno più forti, c'è Justina Kowalczyk, vediamo che fa, Justina quest'oggi aveva un ritardo di 1,32, siamo lì. 1,33 per Justina Kowalczyk, sì non è partita male, ha guadagnato qualcosina Joao, mentre tutto il resto del pelotone perde su Marie Bjorgen, è partita fortissimo Marie Bjorgen, solo Teresa Joao riesce a tenere le distanze da Bjorgen, tanto l'azione di Marie Bjorgen. Non è partita la Brunley con il Petro alle 10, tra le migliori atlete, per il resto non vi sono state defezioni, almeno per quanto attiene alle prime posizioni. Questa è la salita dove... Anche Jakobsen, perdono, non ha preso il via, era lontana, comunque 33esima in classifica. Questa, stavo dicendo, è la salita dove gli atleti si possono vedere, Marie Bjorgen è così messa nel mirino dal duo che insegue, composto qua, subito inquadrato da Teresa Joao e un Heidi Weng determinata a rimanere sulle code di Joao. È un gran treno, sì, ci stai dietro. È un gran treno, sì. Vediamo il prossimo intertempo, saremo al passaggio al 2 e 2. Non è partita nemmeno Marie Heide in casa Norvegia, così come Marte e Kristoffersen. Prima dei distacchi, ieri, come ho detto, Coppa Italia in Valformazza, in classico ha vinto Giovanni Gullo, perdono, su scuola e Gian Domenico Salvadori, tripletta a fiamme gialle. Sara Pellegrini ha vinto in classico al femminile su Scardoni e Sturz, in ambito giovanile Ander 18, Anna Comarella della Forestale e Mattia Merlini delle Prese, Ander 20, successi per la poliziotta Catrina Gans e per l'alpino Michael Abram. Torniamo alla Coppa del Mondo. Si passa allo stadio, 28 secondi e 6, dunque tutto sommato ha guadagnato poco meno di un secondo ancora Therese Joao su Marin Bjorgen. Dunque Marin Bjorgen tiene là davanti al passaggio dei 2 e 2, si passa allo stadio per affrontare dopo il secondo giro da 2 e 8, un giro tosto, il secondo giro, intanto anche il trappello composto da Charlotte Calla che insegue. C'è anche Östberg che da atleta eccezionale nelle sprint dimostra anche di avere una buona tenuta in questo avvio di stagione nelle gare distance, questo è il gruppo delle 5 con con Östberg, con Calla, con Eichmann e poi le altre due norvegesi che lottano al momento per la quarta piazza. C'è anche Falla. Parlano ancora qualche secondo, Östberg, Calla, Eichmann, Haga e Falla, parlano ancora dalla testa. Passa anche Justina Kovacic che guadagna posizioni. Un avvio di stagione che l'ha vista sin qui un po' sotto tono, anche un pizzico sfortunato ma anche con una condizione forse non ancora ottimale, penso una preparazione proiettata sì sul mondiale ma anche sul tour de ski. Sì, una Justina Kovacic che è partita con quei freni tirati in questo inizio stagione, un po' di sfortuna dire il vero a Cusamo, qualche inciampata di troppo su una neve molto particolare, la neve di Cusamo che è sempre un problema a gestire, mentre non è partita assolutamente piano la qui inquadrata a Mari Björgen che ha fatto vedere subito gli intenzioni che ha di questa stagione, di cercare di portare a casa la spera di cristallo. E sull'altro grande obiettivo, al di là di Falloon, è quel tour de ski che a lei manca. Una che ha vinto tutto e non ha vinto il tour de ski. Manca così ambito, il nostro tour de ski dove anche noi saremmo presenti, nel nostro piccolo io sarò presente a fare quella rampa. Vedi ti aspetta in cima? Sì. E voilà. Buona l'azione. Una valbosa che non ce ne va in Italia, quindi corri nei boschi e fai quel che puoi. Vabbè adesso mi sto allenando a secco con un programma appunto del mio manager allenatore Silvano Gaden. Vediamo se saprà tirare fuori dal sottoscritto quello che serve per andare su per il servizio. Quel poco che rimane. Mari Björgen intanto su in salita. E' buona l'azione di Marit. Bella sciolta, vedete, è una parolona grossa dire sciolta in una salita del genere. Da un punto di vista psicologico, una gara come questa meglio essere Björgen di turno davanti dove è in mezzo minuto o dietro? Dipende dai punti di vista perché se tu sei dietro e non guadagni vuol dire che la davanti è da sola, veramente sta andando forte. Se tu qualcosina da dietro riesci a guadagnare allora ti fai prendere da quello che può essere l'entusiasmo e cerchi di andare a beccare ma davanti non è che hai il famoso... Ramsau 99, nebbia, neve, ne sai qualcosa? Ne so qualcosa. L'inseguimento di Ramsau penso che rimarrà nella storia mia, personale, perché non c'è medaglia che mi faccia tornare in mente quell'episodio quando veramente da pelle d'oca ancora adesso quando mi guardo e guardo quelle azioni. Intanto guardiamo l'azione di Therese Joao con Heidi Weng al 3-3. Björgen adesso ha vista, Björgen qui la pista gira quindi sono vicino e lontano allo stesso tempo ma vediamo al prossimo intertempo. e qui si possono guardare, si mettono nel mirino, le atlete, Marit Björgen davanti. Adesso vediamo il distacco di Therese Joao e Heidi Weng, questo naturalmente terreno favorevole alla qui inquadrata Therese Joao, dove in salita naturalmente ha la possibilità di accorciare quello che è il gap su Marit Björgen. e accorcia, accorcia qualcosina, Joao Ben, 8 secondi in 3 chilometri e 3, Weng sta dietro a Therese Joao, un dato sulle italiane, la migliore è la De Bertolis che paga 2,17 al passaggio al 2,2, la De Martin paga 2,33 e 54esima piazza per lei, mentre la De Bertolis è 47esima. e comunque tiene anche Heidi Weng con uno stile impeccabile dietro a Therese Joao, vi garantisco che non è semplice sciare dietro a Joao, perché con un ritmo molto così sostenuto, lei passi molto corti, devi stare staccato altrimenti ti potrebbe anche compromettere quello che è il tuo stile e devi stare un attimo staccato da chi ti precede, in questo caso da Therese Joao. Bauden 64esima, Francesca ritardo 2,52 e questa è la lotta che rischia di essere la lotta per la quarta piazza e questo oggi è contenti di quel che passa al convento, Kala, Özberg, Ehrmann, Haga, Falle. C'è una certa nostalgia quando vedi una come Ragnhagen, classe 91, quante battaglie con l'altra norvegese Hagen, ma anche con la nostra Deborah Debiagreiter che stente in questo avvio di stagione, mille abbracci, mille saluti a quella che spero possa tornare a essere presto un atleta di punta della squadra italiana, ne abbiamo tanto, tantissimo bisogno. In bocca al lupo Debiagreiter. In bocca al lupo anche da parte mia a Debiagreiter, un talento che manca in questa squadra. Vediamo intanto Björgen, esce da questo sottopasso e qui tifose norvegesi. Futuro per lei, fondista, treccine bionde per la piccola norvegesina a fianco pista, guarda le azioni delle fuoriclassi. Ti do questo dato, torino di Valformazza, ieri gara di Coppa Italia, tra aspiranti junior e senior, in totale 67 atlete, ed erano tantine ieri. Sì, infatti non è che sono numeri, qui i numeri sono ben diversi. La coperta è corta. Coppa Italia veramente con pochissimi partecipanti. Pausa. Azione di controllo in questa parte di discesa, De Bertoli si è scivolata indietro, è 52esima adesso. È 56esima, praticamente a un passo, Virginia De Martin, le due prime italiane, ma probabilmente ci dimenticheremo di questi dati dopo, visto il piazzamento non esaltante, tutt'altro dell'Azzurra. Siamo quasi al passaggio del giro, dei 5 chilometri. è sempre giù la testa, Therese Juhawk. Sul far del quarto d'ora di gara. Un tornante e poi la linea che sarà anche del traguardo, o anzi no, del passaggio. Sono là dietro e sono sempre 20 secondi, grosso modo. Erano 24 al passaggio. Deve rialzarsi un po' Veng per non finire con la punta dei suoi sci sopra le code di Juhawk, che non riesce a buttare giù secondi, anzi perde qualcosina. No, uguale, 24, tondi tondi e 24,3 di Heidi Veng, esattamente. Appunto Juhawk e Veng, infatti siamo lì, vedi il passaggio, 24 secondi. Guadagna tantissimo in salita, lo scricciolo norvegese con incollato sulle code Heidi Veng, che è tanto di cappello, perché sta ragazza qua, veramente è il futuro, è il futuro. Finché c'è Juhawk e Mali Bjorgen, non è che possiamo anche, comunque è una gran atleta, perché essere lì a combattere con due personaggi del genere. Tra l'altro vengono un atleta super portata per le gare contro l'uomo, contro la donna, diciamo così. Una riprova, bronzo olimpico, dietro Bjorgen e Kall, associ dello Schiathlon, e stesso risultato dietro Bjorgen e Juhawk in Val di Fiem. Quindi una che è un'ottima polivaderenza, una che si esalta quando gareggia in questo format di gare in particolar modo. E qui Charlotte Kalla, in classico c'è, ma il divario quest'oggi era difficile da limare in partenza, per lei vengono ben 44 secondi, o prendeva Juhawk ma rischiando di saltare, o altrimenti si lotta per la quarta piazza. Benissimo Oesteberg in questo avvio di stagione. Direi proprio di sì, Charlotte Kalla e Oesteberg si sono trovati in una posizione di partenza non troppo ottimale, perché abbiamo davanti veramente... Tiene bene anche Eggman in classico. Vabbè, per essere una sprint, e comunque sappiamo benissimo che gli sprint non è che sono come i centometristi dell'atletica, fanno allenamenti specifici, lunghi, distance, dunque il fondo ce l'hanno, e possono anche affrontare gare più lunghe e fare anche il risultato. Vediamo il distacco di Jusina Kowalczyk, non tanto per quella che sia la posizione finale, ma per il tempo di gara in ritardo 1,54, lei aveva 1,32 da Bjorgen in partenza. Si perde, comunque perde come ha perso Charlotte Kalla e Oesteberg, dunque è abbastanza linea anche se il livello di Jusina Kowalczyk in classico non è questo, assolutamente no, Jusina è capace di fare performance molto più importanti di questa, da sola, ti può anche partire e lasciare tutti lì proprio sul posto e andare a cercare anche di riprendere chi sta avanti. Non è in condizioni ottimali, Jusina, sta guardando avanti probabilmente. Il corrido della prima al traguardo quest'oggi porta a casa 200 punti di Coppa del Mondo, 160 alla seconda, 120 alla terza, sino alla trentesima piazza. La prima al traguardo quest'oggi vince a livello statistico una gara di Coppa del Mondo. C'è poi la vittoria statistica di tappa multistage per il miglior tempo di giornata. A vedere quel che sta succedendo a Lillehammer potrebbe essere la stessa donna a fare l'una e l'altra cosa, o una delle due, Björgen, Joaug. No slow della regina dello sci di fondo. Mark Björgen tiene benissimo, materiale preparato ottimamente dai tecnici norvegesi. Tiene, è un compromesso giusto, vedete che deve sciare centrale, assolutamente centrale, altrimenti qualche passo viene perso da Mark Björgen, ma tutto sommato materiale buono per la norvegese. Björgen un feeling eccezionale con il mini-tour di avvio di stagione, è stato proposto per quattro anni in Finlandia, quest'anno in Norvegia, sin qui in questo mini-tour dal 2010 a quest'oggi, 14 gare disputate, 8 vinte da Björgen, 2 da Kowalczyk, 3 da Joaug, 1 da Kalla. Solo 4 atleti che hanno vinto al maschile, stesse statistiche, ma con 12 atleti che hanno vinto. Quindi è un dato che ci dice di due mondi molto diversi. Al femminile 4-5 atlete ad un livello, poi il resto della tupa, al maschile molta più incertezza. Rosicchia ancora un paio di secondi nella parte in salita, Teresa Joaug e Heidi Weng a Marie Björgen. Ora due secondi rosicchiati appunto dal duo norvegese che insegue, mentre dietro Charlotte Kalla sono state ancora risucchiate da chi insegue. probabilmente ci vorrebbe un cambio anche da parte di Osteberg su Kalla per far sì di provare di scappare al gruppo che insegue, ma si sa se non si ha benzina, non si va davanti. E' quello che sta succedendo tra Heidi Weng e Joaug. Heidi Weng non ha ancora dato un cambio a Joaug, probabilmente il ritmo imposto dalla piccola norvegese. anche in classico, è importante e Heidi Weng non se la sente di andare davanti e dare una mano ulteriore per provare a pigliare appunto Mark Björgen. Vado a vedere gli italiani che attendiamo al passaggio a metà gara. I distecchi però sono importanti per la squadra italiana, al femminile. C'è qualche aspettativa, più di qualche aspettativa per quello che faranno i maschi, vedersi soprattutto quello che ormai mi piace chiamare il colonio italiano, che passi o che non passi, lo chiamo così, ovvero Francesco De Fabiani. Questo è secondo me il tratto di gara dove le atlete possono essere stimolate maggiormente a chi insegue naturalmente perché Mark Björgen non si gira, però là dietro vedete come sembra ridotto il gap, invece saranno sempre una ventina di secondi, però chi sta dietro potrebbe così gasarsi un po' di più e magari anche tirare una botta perché dopo quando ti gasi troppo e acceleri poi tiri una pappina e resti là per pista. De Bertolis, 52esima metà gara in ritardo 3.20, ha preso 1 minuto e 35 in 5 km, De Martini a 3.31, ha preso 1 minuto e 31 secondi in 5 km, sono davvero troppi tanti. Tantissimi, veramente i secondi presi in 5 km, dunque vediamo la Bode, 3.53 di ritardo, aveva un ritardo di 2.22, tutto sommato Francesca meglio delle altre due anche a livello cronometrico nella parte iniziale. Mario Björgen al 7.2, ancora il giro, quello piuttosto da affrontare per Mario Björgen dove potrebbe perdere qualche altro secondo. Spingono a mille, sia Joao sia Weng, ma in cambio, non che non voglia forse dare il cambio ma mi sa che la Weng è proprio al limite. 18 secondi! Ancora 4 secondi rosicchiati dal duo che insegue, provano il tutto per tutto. Ma passano i chilometri. Passano i chilometri. Siamo al 7.2. Ancora 2.8 km per Marit Björgen e Joao Geveng, mentre devono ancora passare al 7.2. Eccole qua, il gruppone che insegue è tirato da Charlotte Calla. Marit Björgen ancora una volta stacca la regia sulla norvegese che guida questa gara e guida tutto. Nelle 4 edizioni sin qui disputate del mini tour di avvio di stagione ha sempre vinto lei. Nel 2010 su Kovalcic e Calla, nel 2011 su Joao Geveng e nel 2012 su Kovalcic e Weng. C'è anche lei sul podio quindi, lo scorso anno su Calla e su Joao Geveng. Così a occhio, guardato là in sopra, ancora qualche secondo potrebbe essere stato rosicchiato da Joao Geveng. Adesso arriva la salita quella più dura, quella lunghissima. Casa Italia, piove sul bagnato, abbandono di Marina Piller. Eh, che dire Silvano. Bisogna fare le valigie, tornare a casa, risettare il tutto, partire da Davos con umiltà, con la consapevolezza che è dura ma che bisogna risalire. Non abbiamo grandissime alternative, queste sono le italiane in questo momento, è inutile attaccarle o dire, insomma, sono dei pesi e basta. Questo è il fondo italiano in questo momento, cerchiamo di stare vicini e ne lo facciamo a queste ragazze. Chiaramente che noi delusi da questo avvio di stagione, ma sono deluso per prima, questo va detto loro. Vabbè, noi siamo qua appunto delusi a commentare quella che è un'azione delle italiane che non viene dalla nostra e di conseguenza loro dovranno, come dici te, fare le valigie, tornare a casa e guardare quello che si sbaglia, quello che non si riesce a trovare. Perché una tecnica classica, Regina De Martin, secondo me, aveva lo smalto, aveva le possibilità, ha le caratteristiche, ha la forza. Poi tra l'altro è un'attività che si è sempre espressa molto bene nelle gare o con partenza di massa o altrimenti con l'inseguimento come è quest'oggi, quindi con riferimenti vicini. Un po' più vicine sono le due là. Sono più vicine. Qui adesso affronteranno quella che sarà quella salita lunghissima. Sono vicinissime, 10-12 secondi saranno più o meno il distacco di Mari Bjorgen da chi insegue. Tenterà tutto per tutto, secondo me, Teresa Joag per tornare sotto a Mari Bjorgen. Su queste salite, poi in discesa, rischia di pagare qualcosina. Un quadratura che schiaccia, il tuo commento. Un quadratura che schiaccia, ancora un po' di gap da colmare. Sta tentando tutto per tutto Teresa Joag. Poi fa fatica anche, guardate, Heidi Weng di rimanere sulle code di Joag. Proprio forzata l'azione ancora di più di Teresa Joag. Lascia lì Heidi Weng, ma Heidi Weng ricordiamo che non è così semplice scollarsela dalle code. Tutta ha chiusciuto tantissimo nell'ultime stagione. Con il motosita torniamo su, anche Bjorgen, anche lei sembra faticata. Sarà una bella gara. Qui potrebbero arrivare nella parte finale insieme Mari Bjorgen, Joag. E forse anche Heidi Weng, ma Heidi Weng fa fatica. Fanno fatica tutte, è una parte di gara durissima. Ha preso 3, 4, forse 5 secondi. Scalcia l'una, scalcia l'altra. L'azione di Joag che scruta l'orizzonte davanti a sé. Una bandiera italiana, almeno quella c'è. Ma c'è tanta Norvegia nel cielo plumbero di Lillehammer. Vediamo l'imminente passaggio all'8 e 3. Salita durissima. Vedo molto meglio Joag di Mari Bjorgen. Fa fatica Mari Bjorgen. Si volta Joag. Eh sì. Si aggrappa i bastoni di Bjorgen. Siamo 6-7 secondi. Eh, forse anche meno. Saranno 4, Silvano, i secondi che dividono 5 secondi. Aia. Sono molto, molto vicine. Si vedono. E invece perde Heidi Weng. 12 secondi di Heidi su Mari Bjorgen. Allora, lo scorso anno finale di Coppa del Mondo, sempre le stesse tre. Erano tutte e tre in grande condizione. Alla fine vinse Joag. Adesso si porta su Bjorgen. Motivazioni a mille. Si rialza un attimo. Si rialza un attimo Mari Bjorgen. Secondo me adesso tenterà di così gestire la situazione. Ma devono stare attenti. Involata in periodo non ce n'è. Però devono stare attenti che non torni sotto. Questa Heidi Weng che è involata potrebbe anche dare fastidio anche a Mari Bjorgen. E' un attimo di ritardo per il Weng. Mamma mia. Bellissima. Nella parte più congeniale per Terese Joauga ha agganciato Mari Bjorgen, la compagnia di squadra. Adesso bisogna vedere se nella parte finale di questa salita magari Terese proverà a lasciare lì la... E' la sensazione che voglia farlo e quel binario subito cercato, come dire, ci sono. Ancora più legnosa mi sembra l'azione di Bjorgen. Bjorgen fa fatica, fa molta fatica. Si accoda a Terese Joauga. Ma fa fatica anche a Joauga. Guardate come si aggrappano i bastoni entrambe. Adesso terreno meno congeniale per Joauga. Ma si sa che se non ne hai in salita poi paghi anche in discesa. Se sei cotto la parte in salita fai fatica a recuperare. Di conseguenza potresti anche perdere in discesa. A livello di materiali, ecco, atlete del calibro di Joauga e Bjorgen. Per l'unica c'è una scelta individuale di materiale oppure indicazioni di squadra? O è l'atleta che alla fine scelta? Che riguarda la sciolina di tenuta è una scelta fatta di squadra. Di conseguenza la sciolina di tenuta sarà uguale sia per Joauga, per Marit Bjorgen. Dopo bisogna vedere lo sci che scelgono individualmente perché lo sci lo sceglie l'atleta. Devi scegliere lo sci più adatto a quella sciolina. Cioè un compromesso sci, sciolina, tipologia di neve, schiacciamento, durezze. Non è così sempre. C'è veramente delle componenti che devi mettere assieme. E tutto fa sì che la cosa sia perfetta. Dunque assolutamente non è semplice. Valky risale sino alla nona piazza ma è lontana. Le due invece sono vicinissime al traguardo. È un finale tutto da vivere di questo multi appuntamento stage di Lillehammer. E si rialza Bjorgen, più scalta in discesa. Curve le due sono molto vicine. In caso di volata Bjorgen sulla carta è meglio di Joauga ma Joauga motivazioni. E soprattutto la gioia che l'accompagna in questo avvio di stagione. Sempre sorridente Bjorgen al 3-6. Gran bel duello. Le due sono assieme. Sono assieme. Terreno favorevole a Marit Bjorgen nel tratto precedente della discesa. Dove stando dietro avete visto che tornava facilmente sulle code di Teresio. Tre decimi tra le due e quest'oggi sarà decimi. Ancora a separare le due. Bel finale. Spettacolo a Lillehammer. Nello stadio di Lillehammer. Proprio incollata alle code della compagna di squadra. Quasi le peste alle code. Spettacolare questo arrivo. Perde un passo Bjorgen ma non molla. Sono illimiti tra ieri. L'uscita l'una dell'altra. Guardate come cerca di seguire proprio il passo di Joauga. Non è semplice. Deve accorciare l'azione Bjorgen. Perché è un passo molto ridotto quello di Teresio Joauga. Esce. Prende l'alto binario. Più pesante in discesa. Arrivo. Più scaltra. Bjorgen davanti. Una grande Joauga. Gran bella gara. Epilogo incerto a Lillehammer. Ci prova. Secondo me ci prova ancora Joauga. Ma potenza. Lo stato puro per Marit Bjorgen. Vediamo. Binario di destra per Bjorgen. A sinistra Joauga. Gran bel finale. Non molla Joauga. Bjorgen risponde. Sono vicinissime. Bjorgen su Joauga. Più potenza nelle spalle. Bjorgen. Vince Bjorgen su una strepitosa Joauga. Da dieci lode. L'una e l'altra. Alla fine sono sei i decimi. Allarga le braccia. Come dire ragazzi miei. Davanti. È di fronte a tanta potenza. Posso solo che inchinarmi. Ha fatto un'azione strepitosa in salita Joauga. Joauga ma non può assolutamente fare nulla negli ultimi cento metri dove la pista spiana. Quando Marit Bjorgen spinge sui bastoni. Mi sa che sarebbe duro anche per il mitico Silvano stare di dietro. Sessantottesima vittoria. Accidenti a te. Sessantottesima vittoria. 6-8. Per il Bjorgen in Coppa del Mondo. A sensazione il miglior tempo di giornata. Quindi vittoria multistage. come risultato della gara Udegna per Teresi Joauga. Gara bellissima. Joauga da libro cuore. Una brillante venga. Una straordinaria Bjorgen davanti a tutti. E invece che fa Osterberg? Lascia sul posto Charlotte Calla. Osterberg per una quarta piazza. Dunque gran finale anche della norvegese Osterberg. Che stacca. Roppe gli indugi su Charlotte Calla. E lascia sul posto la svedese. Allora. La norvegia al femminile in questa stagione. Eccezionale. A livello di vittorie. Che dire. Nelle distance aveva vinto Joauga. Quest'oggi Joauga dovrebbe avere il suo. Dalla sua il miglior tempo di giornata. Bjorgen però alla fine vince questa gara. A livello di statistica di Coppa del Mondo. E porta a casa 200 punti. Bjorgen prende l'argo in Coppa del Mondo. Sarà un duello ancora con Joauga. Onore a Osterberg. E sono uno, due, tre, quattro. La norvegia. Che dire. Spettacolo. Allo stato puro anche quest'oggi qui a Lillehammer. Bellissimo questa gara Silvano. Veramente bella. Perché hai visto come sembrava scontata. A metà gara la vittoria di Marie Bjorgen. Invece assolutamente no. Joauga è tornata sotto a prendere Bjorgen. Poi naturalmente nulla ha potuto contro la potenza pura di Marie Bjorgen. Che negli ultimi cento metri ha scaricato a terra. Poi naturalmente no. Ecco qua il podio. Tutto norvegese il podio quest'oggi. Ancora una volta. Bjorgen, Joauga, Heidi Weng hanno dato il spettacolo. È il podio dello skitlon del Mondiale di Fiennes. Con le stesse posizioni. Nessuna tuta rossa. Ovvero italiana verso il traguardo. Siamo finiti lontani anche quest'oggi. Siamo oltre la cinquantesima piazza. Ma al di là del piazzamento. Sono i distacchi che sono preoccupanti. Gli stacchi abissali proprio accumulati dalle nostre. Colonna di punta della Francia. Il biathlon guideremo tra poco la linea. Le italiane devono giungere al traguardo. La De Bertolis aveva 4.19. La migliore delle nostre. La cinquantaquattresima. A un chilometro sette dal traguardo. Dietro di lei c'era più lontana. Però la De Martin ha cinque minuti. Dietro la De Martin di nove secondi. La Bauden. Siamo lontani. Lontanissimi al femminile. Come detto. Si fanno le valigie. Si torna in centro Europa. Si va a Davos. Noi vi salutiamo. Un saluto da Fulvio Valbusà e Silvano Gauden. Linea al biathlon. A Ostersund. Ci vediamo alle 11.45 per la gara maschile. A dopo. Niente.